Non solo disagio, questo è il titolo dello spettacolo presentato stamattina dagli studenti del liceo scientifico di Campobasso nell'ambito del progetto Giovani. Ha partecipato il gruppo ROC I Fiori del Male, ricavato e a beneficio della casa di riposo Pistigli. Per prevenire il disagio occorre creare condizioni di benessere fisico, psichico e sociale. Partendo da queste considerazioni, sei anni fa a Romita fu istituito il centro di informazione e consulenza che grazie al coinvolgimento di studenti, genitori e anche delle istituzioni fornisce ai giovani informazioni in materia ad esempio di sessualità, di AIDS e di educazione alla legalità. All'attività del centro quest'anno sono state interessate tutte le seconde classi per favorire tra l'altro l'acquisizione di capacità critiche verso alcuni dei maggiori problemi della vita sociale.